Buongiorno e benvenuti all'ottavo episodio di 4 minuti di Storia, Arte e Cultura a Vienna con la vostra guida virtuale, Hakim Ferrandina. Bene, abbiamo parlato nei precedenti episodi del Medioevo dei Babenberger, siamo sempre ancora nel Medioevo e parliamo ancora dei Babenberger. Vi ho parlato di Heinrich Asomirgott, vi ho parlato di Leopoldo III, adesso vi parlo di Leopoldo V di Babenberg. Mi domanderete ma chi è costui? Ve lo dico io. Per parlarvene vi menziono un'altra persona molto meglio conosciuta, ovvero Riccardo Cuor di Leone, re d'Inghilterra, che ha a che fare proprio con Leopoldo V di Babenberger. Ora, torniamo indietro al XII secolo nel quale siamo ancora e vi ricordo, se non ve lo ricordate lo sentirete per la prima volta adesso, che abbiamo avuto a quel tempo le crociate, ovvero i cristiani hanno provato più volte di riconquistare la Terra Santa, di riconquistare Gerusalemme. Uno di questi è stato proprio Riccardo Cuor di Leone. Per poter fare questa cosa era necessario prima arrivare ovviamente a Gerusalemme e per farlo bisognava prima conquistare un porto, il porto di Haccon. E' qui che inizia tutto, 1194 o 192, non ricordo di preciso adesso, che accade, accade che conquistano il porto, però Riccardo Cordiglione pare che non si sia comportato in modo particolarmente gentile nei confronti di Leopoldo V di Babenberger, che era di Babenberger, che era altrettanto lì. E pare che Leopoldo gli abbia detto, guarda bello mio, che se tu passi dalle terre mie, dall'Austria, ti farò vedere io di che stoffa sono fatto. Riccardo pare gli abbia detto, guarda bello mio, non mi interessa più di tanto, io sono in Re di Inghilterra, tu sei un ducarello di nessuna importanza, però si sbagliava. Purtroppo Riccardo Cordiglione ha sfortuna, pensava di poter passare per il mare, la sua nave va ad incagliarsi, quindi deve passare per la terraferma, deve passare per l'Austria, deve passare per Vienna e a Vienna viene riconosciuto ed imprigionato, portato in un castello, il castello di Dürnstein, dove verrà tenuto appunto prigioniero, verrà poi consegnato al re della Germania Enrico VI e che succede? Succede, e questa è storia, che il re della Germania pretende un riscatto di 22 tonnellate di argento per liberare Riccardo Cordiglione e questo riscatto verrà proprio pagato, questo accade sul serio, quindi arriva l'argento, una parte di questo argento viene consegnato proprio a Leopoldo V di Babenberg e siamo qui perché qui voglio farvi vedere una cosa, ovvero alle mie spalle, vedete, queste sono ancora mura del XII secolo, si possono anche toccare, spero di proprio che lo si possa fare, c'è scritto anche lì, qui c'è scritto in tedesco, dietro all'intonaco del XVII e XVIII secolo si vedono alcuni punti dei muri del tempo dei Babenberg e si dice che queste mura mediovali della città sono state costruite proprio tramite i soldi di Riccardo Cordiglione, quindi anche queste cose accadevano, per tutta questa cosa qui poi Leopoldo V venne anche scomunicato da parte del Papa e poi la leggenda narra che un giorno Leopoldo V si sveglia, dice caspita ma mi hanno scomunicato, come gestiamo la faccenda? Chiama il Papa, ovviamente gli manda una lettera tramite un cavallo e il Papa dice bene pagami qualcosina e sistemiamo la faccenda, quindi questo è quello che volevo raccontarvi oggi, spero vi sia piaciuto anche questo episodio, vi raccomando se vi è piaciuto un bel pollice in alto, abbonatevi se non l'avete ancora fatto, schiacciate la campanella per gli aggiornamenti, vi ringrazio ancora e ci vediamo la settimana prossima per il nono episodio di 4 minuti di Storia, Arte e Cultura a Vienna, grazie mille, mi raccomando rimanete sempre sani, divertitevi, grazie. Benvenuti all'ottima puntata di nuovo, la rifacciamo, la rifacciamo, la rifacciamo. Baben Berber, Baben Berber, Baben Berber, viene imprigionato altrettanto. Sul ligone.